Le suore benedettine di Modica hanno deciso di chiudere le scuole elementari nella sede di via San Benedetto da Norcia al quartiere Dente. Alla base di questa decisione, molto sofferta per le religiose, sembra essere l'impossibilità a comporre le classi per il nuovo anno scolastico. Al momento, infatti, non risulta nessun iscritto per l'aspirale elementare, mentre, per quanto riguarda le altre classi esistenti, il numero degli alunni si riduce a poche decine. I genitori dei bambini che frequentano l'istituto in questione sono stati già informati della decisione, in modo da poter valutare un'alternativa per il prossimo anno scolastico. La notizia ha colto di sorprese i genitori, alcuni dei quali si sono mostrati dispiaciuti dell'imminente chiusura. Le benedettine, infatti, da decenni hanno affiancato ai loro compiti religiosi quello di istruire i bambini e i ragazzi del quartiere. Ma alla luce della situazione attuale, risulta per le suore impossibile dare un servizio scolastico efficiente, anche perché, dalle parole di Sor Agnese, non hanno nessun finanziamento statale.